Comincia a prendere forma l'aquila targata Giacomo Modica. In vista dell'esordio in panchina dell'ex braccio destro di Zeman a Roma e a Cagliari, i Rosso Blu stanno provando ripetutamente il 4-3-3 durante gli allenamenti di questi giorni nel ritiro di Amatrice. Modica ha però diversi grattacapi a causa degli infortuni. In difesa Emanuele Pesoli è out da inizio settimana, mentre da martedì si è fermato anche Giordano Maccarrone. Per lui si parla addirittura di sospetto stiramento che potrebbe metterlo fuori causa fino a fine campionato. Contro il Siena dovrebbe quindi esserci l'inserimento di uno tra Bruno e Sanni al centro della difesa, con Piva, Chirieletti e Di Mercurio a giocarsi due posti da esterni del quartetto arretrato. In mediana, senza il croato Milicevic, ancora out per problemi muscolari alla gamba, toccherà di nuovo a Benzaglia a prendere in mano le chiavi del centrocampo, con Bulevardio, De Francesco e Manuel Mancini in posizione di mezzali offensivi con la licenza dell'inserimento. In attacco, più probabile che Modica scelga Perna come punta centrale rispetto a De Sousa, in virtù dell'abilità spalle alla porta dell'attaccante campano. A supporto, l'unico che di sicuro partirà titolare è Salvatore Sandomenico. A segno per la dodicesima volta nella debacle di Prato e a soli due gol dal record personale in un campionato professionistico, 14 reti ai tempi dell'Arzanese. L'ultimo posto nella tridente offensivo è in ballo tra Andrea Mancini, Ceccarelli e Triarico, ma per stato di forma e diligenza tattica, Triarico sembra favorito sugli altri due. Buone notizie intanto arrivano sullo stadio di Acquasanta, che sarà la nuova casa dell'Aquila a partire dal prossimo campionato. Da martedì è infatti iniziato il montaggio dei seggiolini rossi, mentre da ieri mattina sono stati montati anche i primi seggiolini blu. Nei prossimi giorni, infine, partirà anche l'installazione del sistema di videosorveglianza, poi tutte le certificazioni del caso prima dell'inaugurazione prevista entro mezza estate.